L'associazione Save Gran Sasso interviene dopo una riunione in regione per parlare di problematiche di SIC e zona protezione speciale nell'area del Parco del Gran Sasso. Dopo il dibattito, diverse le conclusioni che Save Gran Sasso elenca. La regione Abruzzo si impegna a redigere una delibera di giunta in cui affida ad esperti del settore la redazione dello studio delle matrici ambientali dei luoghi interessati a modifica. Nella delibera sarà evidenziato che il posizionamento del SIC e delle zone a protezione speciale avvenuto con un decreto è stato perpetrato in maniera irregolare, avallando dunque la tesi di Save Gran Sasso e progetto montagna di irregolarità in sede di pubblicazione. L'università sostiene al contrario la tesi della realizzazione del piano d'area senza modifiche, questo poiché lo studio delle matrici potrebbe confermare la preziosità degli ecosistemi e di fatto impedire la modifica dei confini. L'ASBUC di Assergi tramite l'avvocato Lanfranco Massime e Franco Sabatini, l'associazione Progetto Montagna e Save Gran Sasso tramite Luigi Faccia chiedono una tempistica certa sull'iter ma ricevendo risposte vaghe dall'università scrivono, annunciano la presentazione di un ricorso al TAR per contestare la mancata pubblicazione sul Bura dei SIC e delle zone a protezione speciali redatti solo mediante lettera dell'ufficio ambiente della regione senza alcuna comunicazione e portatori di interesse. La regione tramite il presidente Lolli e tramite il deciso intervento del direttore Bruno Celupica decidono comunque di affidare lo studio delle matrici ambientali tramite un incarico, non esprimendosi però in maniera contraria alla proposta dell'ASBUC di Assergi e di Save Gran Sasso di presentare il ricorso giudicandola come un sacrosanto diritto dei nativi di Assergi. Durante la riunione giunge anche la notizia delle dure osservazioni alla Vinca per l'ampliamento del bacino scistico della stazione di Ovindoli-Monte Magnola da parte dell'associazione Appennino Ecosistema col fine di bloccare la procedura nonostante si tratti di territorio al di fuori del SIC sul velino ossirente. Si prende ulteriormente atto, scrive Save Gran Sasso, della notizia per la quale il Parco Nazionale Gran Sasso abbia approvato il 28 dicembre del 2018 le misure di salvaguardia sito specifiche del SIC Gran Sasso avviando l'iter di trasformazione del SIC in zona speciale di conservazione con misure restrittive che sono ancora più stringente, un processo che è stato possibile anche senza la consultazione con la Regione in quanto il SIC interessato è completamente ricompreso all'interno del Parco, una decisione adottata in autonomia Disattendendo, scrive Save Gran Sasso, gli accordi precedentemente presi tra le parti, Parco e Regione che prevedevano una sospensione dell'iter finché non si fosse fatta piena chiarezza sulla proposta di rimodulazione dei confini Alla luce di questi punti che sono stati anche verbalizzati nella riunione, Save Gran Sasso e Progetto Montagna fa amare considerazioni Siamo ormai, scrivono tristemente abituati a tali comportamenti ambigui da parte del Parco Siamo convinti che sia finito il tempo di attendere e mediare, pertanto nostra intenzione agire immediatamente presentando istanza di autotutela per l'annullamento dei SIC, i Sidi di Interesse Comunitario e ZPS zone di protezione speciale ad oggi estesi sul territorio del Parco Nazionale comprendenti zone antropizzate di interesse economico-sociale Spiace e costatare concludono l'assordante assenza e il silenzio da parte del Comune il quale ad oggi ancora non invia la nota alla Regione per comunicare l'approvazione della delibera di giunta del 20 settembre 2018 che decreta la legittimità e la volontà di ben 11.000 persone che hanno firmato la petizione per la rimodulazione dei confini SIC e ZPS